Però è giusto che noi lo ripetiamo, però probabilmente dobbiamo vivere così, se dobbiamo vivere così quotidianamente, dobbiamo vivere così anche nel calcio, con i calciatori che sanno di poter correre questo rischio. Sentiamo un altro messaggio vocale. Quest'anno lo Scudetto è una lotteria, vincerà la squadra che avrà meno contagiati, soprattutto nelle partite più importanti. È brutto a dirlo, ma è così. La squadra con meno contagi sarà vincitore dello Scudetto. Ciao da Luca. Speriamo, dai, non voglio che sia così, perché altrimenti il campionato sarebbe falsato, sarebbe ancora più falsato di quanto non possa esserlo adesso, anche perché qualcuno sostiene da Genova che il Genova nel secondo tempo è crollato perché c'erano i calciatori che non stavano bene. Sarà vero? Sì, è lo stesso direttore sportivo. Sarà vero. Dicevo Raffaele, un aggiornamento anche sul Genova di cui parlavi, è arrivato lo stop agli allenamenti proprio da parte dell'ASL, anche se immagino che per il buon senso si sarebbero fermati comunque i rosso-blu, domani nuovo giro di tamponi per tutti i tesserati e quindi vedremo cosa ne verrà fuori. Sì, adesso sono tutti in isolamento, mi sembra evidente, e c'è preoccupazione, come dicevamo, nei calciatori, anche quelli del Napoli, che magari avranno anche contattato l'Associazione Italiana Calciatori per sapere come devono comportarsi e che cosa devono evitare in questo periodo, Andrea. Parliamo con un consigliere, uno dei tanti consiglieri dell'AIC, dell'Asso Calciatori, Raffaele Gragnaniello, ex sportiere in collegamento con noi. Ciao Raffaele, ben ritrovato. Buongiorno a tutti quanti voi, grazie per l'invito. Ciao Raffaele, buongiorno. Immagino che voi come associazione state seguendo la vicenda Genova-Napoli in maniera ancora più, con contatti sempre più frequenti. Sì, in effetti si sta aspettando l'esito dei tamponi anche quello là del Napoli, sicuramente la partita quella là del Genova del prossimo fine settimana verrà rinviata. E niente, con la concomitanza dell'emozionale si spera di non far saltare eventuali altre giornate. È logico che c'è attenzione intorno al Napoli perché comunque il Napoli ha più impegni e la speranza è che l'esito dei tamponi sia negativo. Eh sì, ma i calciatori che cosa vi raccontano? A parte la procedura, ma quali sono le vere paure? Oppure pensano, vabbè ma a noi il Covid magari poi ci passa subito. Eh no, la denuncia intanto presuppone già il fatto della denuncia e del contatto, presuppone la quarantena obbligatoria con il tampone, quindi c'è preoccupazione da questo punto di vista. Ma sono delle valutazioni già fatte dopo il lockdown, già prese in considerazione e alternative, come vedete non è che ce ne sono tante. Già il protocollo è abbastanza intenso ed importante. Essere sottoposti frequentemente a tamponi, a sierologico, già fa sì che comunque ci sia la massima attenzione. Poi per il resto si pensa a lavorare. Eh sì. Sì, a proposito di questi tamponi, però mi sembra che anche l'asso calciatori, insieme ovviamente alla FIGC, si sia battuta per una riduzione degli stessi, perché più volte abbiamo detto anche con Raffaele Auriemma, non è una cosa piacevolissima per i calciatori. Alla luce di quello che è successo, però credi che, non lo so, ci sia una maggiore preoccupazione tra i calciatori, forse si preferirebbero più controlli ma più garanzie? Cioè qual è un po' il termometro dell'umore della categoria? L'unica cosa è l'esito. Bisogna lavorare solamente sull'esito del tampone, perché si è capito che la frequenza deve essere questa qua, quindi attenersi al protocollo. L'unica cosa è l'esito. Non cercare comunque di stringere i tempi in maniera tale che se c'è una problematica affrontare nel minore tempo possibile. Questa è la richiesta fondamentalmente. Raffaele, per caso qualcuno vi ha chiesto se è il caso di allenarsi oggi? No, non ci è stato chiesto perché comunque nel momento in cui, per quanto riguarda quelli là contagiati, in automatico vengono considerati infortunati e quindi c'è denuncia di fortuna. Se fanno il tampone alle ore 13 e subito dopo vanno ad allenarsi tutti quanti insieme, noi non sappiamo se tra i calciatori del Napoli c'è qualche contagiato. Quindi se ne sono uno o due e si allenano tutti insieme si rischia di diventare quattro o cinque. Assolutamente sì. Credo che... Sì, prego. Prego, prego. No, no, dimmi, dimmi, Raffaele. No, ti dicevo, io credo che probabilmente è preferibile proprio per cautela. Ma io penso che la gestione già interna porti ad allenamenti individuali, fin quando non arrivi l'esito del tampone. Infatti. Deve essere presa in considerazione. Beh, secondo me oggi sarà così. Convocarli e cercare di mantenere distanziamento e fare degli allenamenti votati all'individualità. Cercando di aspettare l'esito del tampone. Ma decidesse la sua calciatore, Raffaele, poi ti salutiamo, non voterebbe quindi a oggi una sospensione del campionato? Mi sembra di capire le tue parole. No, no, assolutamente no. Assolutamente no. E mi sembra anche giusto che lo fermi a fare questo campionato per due settimane. Poi lo devi fermare sempre, per sempre. Invece no, bisogna, come nel resto del paese, e diceva giustamente il professor Mirone prima, ci sono dei piccoli lockdown delle zone rosse e lo fai anche nel calcio. Ma che partita la rinvii? Man mano. Bisogna procedere. No, siamo andati incontro ad una problematica talmente grossa che bisogna affrontarla man mano. Non c'è una soluzione generale. Va bene, Raffaele. Grazie, ovviamente buon lavoro. Grazie mille a tutti. Dobbiamo fermarci adesso, però... Dobbiamo fermarci. Diciamo che noi abbiamo contattato Raffaele, anche il presidente dell'Asso Calciatori, che ovviamente aspetta prima l'esito dei tamponi del Napoli e poi magari domani riuscirà a rilasciarci qualche dichiarazione in prima persona. Ricordo lo 081636363 per intervenire in trasmissione e il 339-666-9990 per i whatsapp scritti e vocali. Va bene, allora fermiamoci, pubblicità. Quindi vado a ricordare ancora una volta lo 081636363 per intervenire ai nostri microfoni e oltre al 339-666-9990 dove aspettiamo tutti i vostri whatsapp, quelli scritti e quelli vocali. Ovviamente proveremo nel corso della trasmissione a ritagliare un po' di spazio per ascoltarli quanti più è possibile. C'è Enzo in linea con noi. Ciao Enzo, buongiorno. Buongiorno ragazzi, complimenti sempre, io vi chiamo sempre. Io sono un po' perplesso perché il calcio è uno sfogo, una libertà, una passione. Vivere in questo modo non fa piacere, devo dire la verità. Voi che ne pensate? Perché avere la preoccupazione tampona, è positiva, è negativa, la partita si farà, non si farà. Quelli già spalmati, tutti i campionati in 4-5 giorni, ma con questi infini probabili, che facciamo? Ci vuole un pallotto vero per sapere chi deve giocare, chi ha giocato, i risultati e cose. E poi voglio fare una battuta ironica, se me lo permettete. Probabilmente quest'anno la Juve lo vincerà il campionato della Coppa dei Tamboni. Il campionato della Coppa dei Tamboni. Grazie, grazie Enzo. Guarda, è chiaro che dal tifoso venga vista così si perda un po' di magia nel seguire il calcio, ma se ci pensi non è niente diverso da quello che ci succede in tutti gli altri ambiti. Anche andare al bar con gli amici oggi lo fai con una preoccupazione perché sai benissimo qual è la situazione in merito al coronavirus. Quindi il calcio vive quello che sta vivendo tutto il mondo, in tutti gli ambiti purtroppo. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno a te. Complimenti per una bellissima trasmissione. Complimenti anche per gli interventi sia a vostri che anche agli ascoltatori molto interessanti. Io sono un grande appassionato di calcio, del calcio bello, quello dei tempi d'oro, quello di Careca, di Maradona. Questo non è più calcio, scusatemi. Io sì, capisco che bisogna convivere, ma c'è tanto business nel calcio. Io sono per la sospensione, mi dispiace. Ma io l'ho messo in maniera ultranzista perché i poteri forti poi quando capita il covid alla squadra forte fanno fermare il campionato. Adesso perché il genere, perché qualche squadretto del genere si può andare avanti. Io solo per la giustizia avevo un gioco di squadra e un gioco di assembramento e tutti devono avere le stesse armi per vincere le partite. Va bene, raccogliamo questa tua opinione Roberto, ma insomma non si può fermare il calcio, l'abbiamo detto mille volte per tanti motivi. Raffaele tra poco andiamo al telefono dal nostro talent intanto, che consulteremo anche oggi nonostante le vicissitudini. Io ricordo ancora lo 081636363 per continuare a intervenire in diretta e il 3396669990 per tutti i whatsapp scritti e vocali. Sì, whatsapp che sono davvero numerosissimi e ne sentiamo qualcuno prima di andare al telefono. Buongiorno Raffaele, a te e al tuo collega. Raffaele volevo dire una cosa semplicissima che forse sta sfuggendo a qualcuno. Avendo ascoltato il professore prima che spiegava i tempi, i giorni, i doppi tamponi, gli esiti e tutto, la mia domandina è semplice, ma che si giocherà ogni tre giorni che inizieranno le coppe, e poi Raffaele lasciami aprire un'altra parentesi, un appello al dottor Cantone, titolare dell'inchiesta dell'esame farsa, vada in fondo, faccia questo favore alle persone per bene d'Italia, le persone italiane intelligenti sanno chi sono i mandanti, non ci deluda, per favore, vada in fondo, grazie e buongiorno. È giusto che vada in fondo, però noi non possiamo dire che sappiamo chi sono i mandanti, altrimenti commetteremo lo stesso errore che commettono quelli come Giampiero Mughini, che ieri sera ho dovuto riprendere a Ticchitacca, che sostengono essere farsa non tanto la procedura di esecuzione dell'esame, ma dell'inchiesta in sé. Quindi questo è il negazionismo solito di certi giuventini, perché ce ne sono tanti altri che ammettono quando le cose non sono chiare e preferiscono, anzi pretendono loro stessi che ci sia un approfondimento. Noi però l'approfondimento lo facciamo con un grande ex calciatore del Napoli, ormai un nostro talent da una settimana, per chiedergli innanzitutto come sta vivendo il suo calcio con il Covid. Buongiorno Salvatore Bagni. Beh, per me me lo godo solo in campo, il rettangolo di gioco, il Covid dobbiamo convivere, l'ho sempre detto, lo dicono tutti, finché non si troverà il vaccino bisogna convivere, stare attenti. Io non sono uno che si preoccupa prima, però sto attento alle indicazioni che devo seguire e poi ci vuole anche un po' di fortuna, perché viaggiando tanto ci vuole anche tanta fortuna. Eh certo, è vero Salvatore, ma il campionato comunque così deve procedere in una maniera che io non considero essere proprio regolare al 100%. No, assolutamente no, però non c'è altra via purtroppo, non penso che si possa essere altra via. Non pensavamo che poi, soprattutto nel Genova, ci fossero tanti che sono positivi e che rischiano di non giocare non una, due, tre, non si sa quante partite, adesso vedremo, adesso vedremo come andrà avanti, però speriamo solo che non si allarghi e con tutto uguale a speranza di tutti noi. Sì, Salvatore, è venendo però al calcio, è venendo al Napoli, che ha sbalordito chi non immaginava potesse essere così forte. Ora qualcuno prova a giustificare il secondo tempo del Genova con il Covid che stava covando, ma io penso che altro del Covid... No, ma chi è questo? Chi è? Chi sono? Anche il direttore sportivo ha detto questo. No, dai, dai, dai. Per favore, chi va in campo pensa a giocarsi la partita, non era certo il Genova migliore, ma era il Napoli migliore. E' proprio migliore di aspettare, anche se c'è un risultato così pesante per loro, vuol dire che il Napoli non gli ha dato mai una possibilità di entrare in partita. Come era successo a Parma, come le grandi squadre che continuano a giocare, a segnare, per rispetto della partita e per rispetto degli avversari, io ho visto solo un grande Napoli, con grandi idee, penso bene in campo, però io non sono soddisfatto di quello che ho visto. Non sei soddisfatto? No, sono molto soddisfatto. Ah, molto soddisfatto. Molto, no, no, assolutamente. Sì. Assolutamente, perché poi idee diverse, c'è... Magari un aspetto che non è sputtito a te, magari a nessuno che ti sta ascoltando, però quando sei purtroppo infortunato in segne, cosa ha fatto Gattuso? Lo sanno tutti. Ha messo dentro il centrocampista. Ha fatto una mossa correttissima. E lo so, però... Anche in previsione Juventus, probabilmente. Se non voleva cambiare lo schema, poteva mettere Lozano a sinistra e Politano a destra. Invece è andato sull'uomini, lui è andato sull'uomini, neanche sullo schema, perché la sua idea era quella di trovare quelle quattro punte. Perciò poteva continuare su quella pazzariglia, invece no. Ha inserito Elmas, che secondo lui, in quel momento, dà più garanzie in questo momento. però tante buone idee, perché per esempio Giuseppe gioca due partite titolare e non è spostito neanche questo. È ovvio che deve dare copertura. Deve esserci qualche giocatore che copre. È una squadra molto sbilanciata, molto propositiva, molto bella da vedersi. Il primo esame vero sarà contro una squadra che si costringerà a qualche volta anche difendere. Esatto. Infatti la domanda, Salvatore, se Juve-Napoli si dovesse giocare regolarmente, se il Napoli si riproporrà in campo allo stesso modo. Paradossalmente, tante volte abbiamo detto, per esempio, che Fabian e Genischi insieme non vanno benissimo, hanno giocato meglio a due che a tre, paradossalmente. Però con la Juve sarà forse un'altra storia. Secondo me sì, una mia idea, non penso, ovviamente che a Tuso studia ogni partita e sa, i giocatori che si troveranno di fronte. No, ma io non penso che giocerà con i quattro. Io penso che tornerà al 4-3-3 iniziale della prima partita. Non pensi, scusami, che farà il 4-2-3-1? No. Secondo me no. E se giocasse proprio come ha finito Napoli Genova? Ah beh, allora tanto di cappello. Con Elmas al posto di insignia che non ci sarà? Ci può stare. Ci può stare anche questo, però è una mia idea. Certo, se mette Elmas, è un altro tipo di schieramento. Esatto, ma questo è sicuro, Salvatore, se gioca Elmas, che stringe molto in mezzo e viene ad aiutare Fabian e Zilinski, che a Torino ci può stare. Però io parto sempre dalle formazioni iniziali. A Parma ha giocato quei tre attaccanti, contro il Genova ha giocato quei quattro attaccanti, di ruolo. Per me sono quattro. Così sarebbe cambiare un attimo incontrando un avversario differente. Cioè, Ancelotti l'ha fatto tante volte anche con Zilinski, con Fabian Ruiz, che secondo me erano assolutamente fuori ruolo. Elmas non può fare anche quello con Vitoro di un ammazzaro, però Elmas lo fa bene. Non è questo il discorso. Io ti dico che Gattuso è entusiasta di Elmas. Trovo che sia molto più probabile che il Napoli giochi così come ha iniziato contro il Genova, ma con Elmas al posto di Insigne, piuttosto che inserire Demme tra Fabian e Zilinski con Politano, anzi no, con Mertens al posto di Insigne e Lozano e Osimene. Secondo me non cambia lo schema, eh? Beh, tutto quasi, è una mia idea, ripeto, ci può stare, ci può stare. Avrei voluto vedere lo schema con la Juventus con Insigne in campo. Con Insigne in campo sicuramente avrebbe giocato con le tre punze e basta. Ne sono certo. È una mia idea, ovviamente non c'ho la sicurezza, però è una mia idea. però guardiamo il momento e potrebbe essere una soluzione assolutamente con Elmas sulle S.A. Sì. Benissimo. Vuoi dire l'ultima, Andrea, Salvatore? Se vuoi fare qualcosa, se no non fa niente. Volevo chiedere a Salvatore se da qui alla fine del mercato si aspetta qualcosa di, non so, un colpo di scena per il Napoli, l'entrata, l'uscita. Spero di no, spero che quell'imparia rimanga al suo posto perché lo vediamo all'80% e basta, vedo un altro Coulibaly che sarà la forza del Napoli. Non voglio colpi, voglio solo colpi in uscita in questo momento ma non Coulibaly, tutti gli altri quelli che magari sono ai margini del progetto. Allora, Raffaele da Fragola ti chiede servirebbe a Gattuso un Salvatore Bagni? Cosa mi chiede? Scusa che ti sento male? Servirebbe a Gattuso un Salvatore Bagni? Sono sordo e sono sul treno e quella è la vecchiaia lo sai? Quella si vede quella si vede comunque si vede si vede la vecchiaia si vede a tutti la vecchiaia no, si vede magari si sente ma non si vede ti saluta anche Brigante 74 Guerriero Bagni sarai sempre uno di noi grazie veramente io dico che ti ringrazio anche se siamo solo tre volte che ti sentiamo quando abbiamo preso questo impegno ma lo ripeterò tutte le volte che mi chiamate sto divertendo molto mi piace mi piace il contatto con voi mi piace il contatto che avrò il venerdì con i sportivi della gente di Napoli perché ricordiamolo che il venerdì sera c'è il tiro al bersaglio con Salvatore Bagni in diretta dalle 19.40 fino alle 20.15 e lì vi potete sfogare allo 0816363333966669990 buon viaggio Salvatore a presto grazie io dico anche non trovate scuse mi raccomando chiamate perché sono gli orari delle persone di Napoli perciò si mangia dalle 9 in avanti dalle 9 di sera mi raccomando buona giornata fanno l'aperitivo con te va benissimo io va bene grazie ciao Salvatore grazie buona giornata sembrava una televendita dobbiamo eh sì numero 1 numero 1 assoluto in campo e fuori dobbiamo fermarci ancora per pochi istanti Raffaele poi torniamo col gran finale 08163636363 per continuare a intervenire in diretta 3396669990 invece per i whatsapp scritti e vocali a tra pochissimo Salco come stai? stai bene? benissimo forte in forma sì Sano e Salvo mi ha messo in confusione va bene 08163636363 fammi ripetere il numero che è meglio Salvo e Salvo io parto che voglio dire il numero e tu mi fai una domanda sorpresa va bene 3396669990 invece per i whatsapp scritti sentiamo sentiamo il whatsapp io lo la devi dire ma non lo devi leggere lo devi far ascoltare questo messaggio ma che cosa? non l'ammetti quando Koulibaly qua a Callaion un altro giocatore del Napoli si sono comprati la patente nautica senza sapere portare nemmeno la barca niente queste non sono cose che vanno a discapito di altre persone ma voi pensate sembra la stessa cosa ma pensate un po' a voi godetevi il campionato puoi tradurre Andrea? io non ho capito niente cioè che cosa vuole questo signore da noi sulle patenti di nautiche di Koulibaly che dobbiamo fare? lui vorrebbe dire che insomma quello che è successo con Koulibaly eccetera non è meno grave di quello che è accaduto con Suarez penso questo fosse il suo pensiero non andiamo ad interpretare queste frasi criptiche ciao Raffaele rispondo io al posto del nostro guerriero un Salvatore Bagni servirebbe non solo a Gattuso ma a qualsiasi allenatore lo scrive Gilda evidentemente innamorata di Salvatore Bagni vai con i messaggi no abbiamo al telefono Luca ciao Luca c'è Luca buon pomeriggio vorrei fare una considerazione e sapere il vostro parere qual è la necessità diciamo visto questa situazione coronale di Covid di mandare giocatori nazionali diciamo visto che comunque io critico anche il fatto che abbiano fatto uscire le persone per andare in vacanza all'estero qual è la necessità di far muovere questi giocatori era solo questa la considerazione volevo sapere il vostro parere è una considerazione corretta e la facciamo anche noi non ne abbiamo risposte ma abbiamo considerazioni come le tue su questo punto io condivido il pensiero di De Laurentiis non i modi con i quali lui esprime la sua idea però il pensiero è corretto ma visto che c'è un'emergenza ma mi spiegate ste nazionali a che servono per giocare cosa poi la Nations League ma ti prego ma non è proprio il caso così come giustamente sottolineavi che è stato sbagliato far uscire le vacanze le persone fuori dall'Italia per fare le vacanze in Europa o in altri posti del mondo allo stesso modo è sbagliato mandare i calciatori in giro per il globo terrestre per giocare partite pressoché inutili sentiamo qualche messaggio vocale buongiorno Stefano buongiorno pure Andrei vogliamo ricordare che il grande guerriero prima di venire a Napoli rifiutò di venire a Napoli ricordiamo anche questo al grande guerriero che ci stiamo facendo sto tratimento anzi ce l'ha fatto prima ma che come secondo me ricorda male questo signore qui Salvatore Bagni non ha mai io non c'ero ma non ha mai rifiutato mi fido di te forse confonde con Berti ma non Salvatore Bagni assolutamente andiamo al telefono però Raffaele perché abbiamo raggiunto un altro ospite molto importante che si è liberato appositamente per noi da una riunione quindi lo ringraziamo per questo il medico rappresentante l'asso calciatori nella commissione medico-scientifica della FIGC il professor Walter Della Frera buongiorno professore grazie per esserci buongiorno carissimo professore grazie ovviamente è un momento un po' delicato e complesso che voi in Federcalcio come state vivendo alla luce dei 14 contagiati nel Genova beh la definizione che ho appena dato è giusta è un momento delicato e complesso e quindi la stiamo vivendo con estrema prudenza con estrema attenzione questo è un momento dell'epidemiologia di verificare che cosa è successo quindi dal punto di vista per esempio Genova ovviamente ci sarà l'asso di competenza che determina le varie procedure e noi restiamo in attesa di sapere di vedere l'andamento delle eventuali altri casi che possono insorgere quindi per intervenire se sarà il caso di intervenire attualmente siamo in studio diciamo così di una situazione che ovviamente speravamo era possibile ma speravamo come tutti che non avvenisse cioè la comparsa di quello che è un vero proprio cluster come si dice in termini in gergo medico cioè di un focolaio che ha colpito una squadra che poteva colpire appunto altre situazioni è così infatti credo che voi stiate aspettando l'esito anche del secondo tampone del Genova oltre che del primo del Napoli perché adesso la partita si gioca tutta lì caro dottor Della Freira perché se nel Napoli non ci fossero contagiati allora viva Dio fermiamo una gara e si va avanti con il resto del campionato giusto? esatto esatto se il tampone di oggi che da quello che ne so dovrebbe l'avere già fatto stamattina ma soprattutto lo stanno facendo adesso lo stanno facendo adesso è successivo che faranno fra 48 ore se ci vuoi solo due tamponi negativi vuol dire che comunque la contagiosità la non contagiosità dei tamponi negativi anche se diventano positivi in un secondo tempo è confermata quindi e che la partita di calcio in se stessa presuppone all'infezione in maniera molto 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 modesta come alcuni studi anche degli scandibili per esempio hanno dimostrato però il virus ci ha insegnato che è un virus molto subtolo che è un virus che non si comporta come tutti i virus che conosciamo e quindi dobbiamo avere un'estrema prudenza e una massima attenzione una massima allerta professore premesso premesso che ovviamente la situazione è in via di sviluppo e va monitorata passo dopo passo proviamo a stringere un attimo sull'ipotesi sospensione per 14 giorni avanzata da qualche quotidiano per ora è un'ipotesi non è neanche un'ipotesi dipenderà dai tamponi cioè qual è la posizione della commissione e della FGC in merito ma per quanto riguarda il discorso quarantena ovviamente i positivi come è da protocollo vanno in quarantena e la squadra va in ritiro diciamo così e fa tamponi ogni 48 ore ovviamente se i tamponi sono negativi i calciatori negativi continuano ad allenarsi quelli eventualmente positivi si fermano come tutti gli ammalati che hanno una positiva parlavo di sospensione di tutto il campionato non è sul campionato non è un'ipotesi ho capito per quanto riguarda il campionato diciamo che non dipende dalla fede del calcio ma dipende dalla Lega ecco perché poi le decisioni di sospendere un'eventuale partita o due partite questa è una posizione che deve prendere deve assumere la Lega Calcio non ci sono a differenza della Premiera un numero minimo di contagiati per cui si può giocare o non si può giocare quindi secondo me dipenderà molto dal buonsenso e dalle situazioni particolari in cui le squadre chiederanno o non chiederanno di giocare però ripeto più che come fede del calcio in questo caso è la Lega che decide la posizione noi come commissione medico-scientifica anche se qua parlo in questo momento parlo ovviamente a titolo personale sarei estremamente prudente userei molti consenso e attenderei l'esito di tutti i tamponi tamponi a mio parere quelli del Napoli e soprattutto adesso la partita si gioca lì si gioca a Castelvolturno nel salutarla professore pensa che sia stato un errore chiedere al CTS di ridurre il numero di tamponi se farli soltanto nelle 48 ore precedenti la partita no no non è stato un errore a mio parere continuo a sostenerlo perché i dati scientifici sono quelli che ci dicono che il tampone fatto 24-48 ore prima della partita è più che sufficiente farlo ogni 4 giorni non è necessario quindi dal punto di vista scientifico le dimostrazioni sono queste quindi continuo a sostenere che la scelta è una scelta razionale è una scelta corretta poi come ho detto prima il virus è talmente sud che a questo punto se andiamo a verificare tutti i sé tutti i ma non ci muoveremmo più ecco io ripeto in questo momento alla luce dell'evidenza scientifica attuale continuo a sostenere che è una scelta corretta fare il tampone 24-48 ore prima della partita incrociamo le dita professore grazie sempre della sua disponibilità incrociamo davvero le dita grazie mille a voi e grazie al professor Walter della frera è uno scioglilingua Walter della frera che è componente della commissione medico-scientifica della Federcalcio abbiamo due minuti sentiamo dei messaggi va bene io volevo dire una cosa sentivo stamattina qualcuno del CTS mi diceva la sospensione del campionato eventualmente dipenderà dalla federazione la federazione ti dice che dipenderà dalla Liga scommetto che la Liga ti dirà che dipende dal CTS sembra un po' di tornare a quel rimbalzo di qualche mese fa quando si parlava della ripartenza decide tutto il CTS quindi alla fine aspetterà la Liga può pensare una cosa la Federcalcio un'altra poi è il CTS che decide sentiamo un messaggio ragazzi buongiorno ciao Raffaele sono Angelo Raffaele ma quello stronzo di Mucchini che quello è solo uno stronzo quando parla tutto che si sbaglia ma che voleva la monetina non monetina non si vergogna con tutti i scudetti che si sono rubati questi per le cattiverie sportive che fanno in Italia questi e parla ancora parla ancora ma la vogliamo finire ma la vogliamo finire questa è l'Italia siamo proprio acciso mi devi credere arrivederci però il dibattito televisivo è bello anche perché ci sta Mucchini che difende a prescindere da tutto anche le cose che sono indifendibili quindi per questa ragione noi poi gli rispondiamo divertendoci abbondantemente sentiamo un altro messaggio e poi lasciamo campo il microfono ai nostri colleghi di Marte Sport Live sentiamo ciao Raffaele ciao Andrea buongiorno ciao vi rivolgo alle 6 mio appello due ore 18 e 30 tanti complimenti e poi volevo dire una cosa sulla questione del Genoa e dei positivi io spero che non ci sia stata una massima solidarietà per i calciatori del Genoa e spero che non ci sia stato dolo o una negligenza topo semplice che possa portare dei danni seri alla scuola del Napoli e al proseguo del campionato perché sarebbe veramente grave ma questo mette anche in dubbio altrimenti la veridicità dei tamponi e tutto quello che c'è in corno ma non è la veridicità dei tamponi è il sistema che purtroppo è fallibile Andrea perché il tampone non ti va a verificare se tu hai il virus in incubazione ti dice solo se è esploso dentro di te e per questa ragione poi siamo tutti quanti a rischio sei d'accordo? noi abbiamo avuto la fortuna Raffaele qualche mese fa di intervistare più di una volta il professor Franco Locatelli che è illuminare che ci disse io mi ricordo questa frase mi rimase impressa il tampone è la fotografia di un istante e può non valere mezz'ora dopo quindi viviamo in un mondo relativo dobbiamo farci l'abitudine il Napoli finora se l'è vista bene col coronavirus a parte il caso Petagna non ha praticamente mai avuto positivi che sono invece emersi da altre parti ti può capitare la partita che ti trovi il Genoa con i contagiati purtroppo è il mondo che ci troviamo a vivere in questo momento e vale anche per il calcio lo rifaremo lo ritroveremo il professor Locatelli sono certo perché davvero tutte le volte che parla ci insegna qualcosa come si pronuncia il nome del nuovo attaccante del Napoli Andrea Osimen bravo ma pensavo ti fossi dimenticato no pensavo quale attaccante adesso ha preso il Napoli il nuovo attaccante del Napoli si chiama Osimen ok perché come si chiama Mario Lozano ha ragione perché è un nuovo attaccante Lozano prima era venuto il suo cognato forse qui a giocare salutiamo Andrea salutiamo 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 Mario Palligiano salutiamo anche il Ciuchillo sano a cui un po' di affetto farà bene la nostra redazione il capo ufficio stampa Paola di Genova io saluto ringrazio te Raffaelec come sempre ci risentiamo domani a mezzogiorno ovviamente tutto ciò che sta succedendo lo sentirete solo qui solo a Radio Marte solo a Marte Sport Live perché in questa ora noi sapremo i tamponi se sono stati effettuati i calciatori se si alleneranno perché questo è un passaggio molto importante di questa giornata noi invece ci ritroveremo domani sempre a partire dalle ore 12 ciao